Due uomini che camminavano a passo veloce, uno di loro calzava guanti da lavoro di colore nero. Una scena che non è sfuggita ad una pattuglia della sezione volanti della questura di Salerno durante un normale servizio di controllo del territorio in via Guido Vestuti, poco distante dal centro sociale di Salerno. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri nel quartiere Pastena, dove i poliziotti, nel tentativo di procedere al controllo di due uomini sospetti, si sono imbattuti in un inseguimento a piedi nella zona tra il quartiere Italia e il borgo Picarielli. È da qui che è partita la fuga dei due malviventi, che avevano messo a segno un furto in un appartamento al terzo piano di questo palazzo, che affaccia sulla strada dove i soggetti erano stati notati dalla pattuglia della polizia. Inseguiti dai poliziotti, uno dei due è riuscito a dileguarsi nelle stradine sterrate della zona Picarielli, mentre l'altro si è nascosto tra gli arbusti della vegetazione nei pressi di alcuni locali semiabbandonati. Dopo alcuni minuti, l'uomo è stato sorpreso dai poliziotti, mentre pensando di non essere visto, tentava di allontanarsi nuovamente dal suo nascondiglio improvvisato. Gli agenti sono riusciti a recuperare l'interare furtiva, consistente in alcuni oggetti in oro, che i malviventi avevano nascosto tra la vegetazione e sequestrando uno zaino di colore nero, nel quale sono stati trovati diversi oggetti atti allo scasso e strumenti specifici per l'apertura di porte blindate. L'uomo arrestato identificato per EF, queste le sue iniziali di 41 anni, originario del napoletano, pluripregiudicato per reati specifici, è stato trattenuto negli uffici della questura a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Sono in corso ora ulteriori indagini per risalire all'altro complice.